Sara Rubais, buongiorno! Buongiorno, ciao! E bentornata qui nel posto delle parole per raccontare le immagini, per raccontare di Immagine Festival. Ecco, Sara Rubais già le scorse edizioni ci ha raccontato questo festival e desideriamo riprendere il filo del discorso. Per chi non conosce questa realtà, questa piccola ma interessante realtà, l'aggettivo piccolo, lo dico con estremo piacere perché noi siamo innamoratissimi dei festival piccoli. Allora, Sara Rubais, come nasce l'idea di Immagine? Sì, allora, l'idea di Immagine è nata ormai cinque anni fa, più o meno, sì, perché questa è la quarta edizione, però la preparazione della prima, insomma, la progettazione è durata parecchio. È nata all'interno della nostra associazione culturale che si chiama Know-How, Officina culturale, che era nata da poco. C'era questa passione, questo interesse per gli albi illustrati e il desiderio di organizzare sul territorio in cui viviamo un festival dedicato proprio a loro, proprio agli albi e alla narrazione per figure. Però nel pensare a dove farlo, noi come associazione siamo a Cuneo, però sulla città c'era già tanta offerta e comunque proveniendo anche da realtà più, diciamo, decentrate, abbiamo pensato che sarebbe stato bello e forse più importante organizzare il festival in un'area un po' più marginale. Quindi abbiamo pensato ad un territorio montano, però nell'andare a individuare in quale paese fare abbiamo pensato di farlo a Vernante. Una scelta non casuale, tra l'altro. No, appunto, abbiamo scelto di farlo a Vernante perché a Vernante ha vissuto gli ultimi anni della sua vita Silio Mussino, un grande illustratore italiano e il primo illustratore del Pinocchio a colori. E quindi, insomma, ci sembrava proprio che ci fosse un forte legame con il discorso dell'illustrazione e abbiamo cominciato a intavolare un dialogo con l'amministrazione comunale che da subito si è mostrata aperta e favorevole alle nostre idee. Da lì è iniziato il nostro percorso. E da lì è cominciato il vostro cammino attraverso le immagini, attraverso le parole e questa nuova edizione che comincerà venerdì prossimo, in che cosa vuole raccontare al pubblico Sara Rubais? Sì, allora, l'edizione appunto inizia il prossimo fine settimana ma in realtà è già iniziata a luglio perché abbiamo inaugurato la mostra di Marco Paschetta, il risultato della sua residenza d'artista a Vernante in Valle Vermenagna che si intitola In loco, la valle, la sua anima, una mostra curata da Monica Monachesi. Quindi questa mostra è stata visitabile per tutto il mese di agosto e ancora per questo mese di settembre fino al prossimo weekend, quello di immagine. Quindi un po' il festival è già iniziato, però appunto il prossimo fine settimana entriamo invece nel vivo dei laboratori, degli incontri con gli autori e quest'anno avremo un'ospite, l'ospite d'onore di quest'anno è un'illustratrice e pittrice torinese che è Elisa Talentino. Che sarà nostra ospite prossimamente. Bene, bene. Quindi avrete modo di parlare con lei, di andare più nel dettaglio. Io vi posso dire che Elisa sarà nostra ospite sabato 18, presenteremo il suo primo albo per ragazzi Quando il mondo era tutto azzurro, edito da topi pittori, il testo è di Sara Gamberini. Faremo una presentazione, c'è un dialogo tra Elisa e Luisa Pellegrino e poi il loro dialogo sarà alternato da dei momenti di lettura ad alta voce del libro con accompagnamento musicale di Nicolo Bottasso. E poi Elisa terrà un workshop di monotipia botanica domenica mattina. Fermiamoci un attimo, che cosa sarà mai la monotipia botanica? Su questo lascio la parola a lei, che sicuramente vi saprà spiegare meglio nello specifico di cosa si tratta. L'idea è comunque di andare nel bosco di Palanfrè, come abbiamo fatto anche l'anno scorso con Gioia Marchegiani, e lì Elisa insieme ai partecipanti raccoglieranno foglie e fiori e dopodiché interpreteranno, disegneranno queste foglie e fiori con l'acchina e insomma poi tecnicamente io non vi so spiegare bene, ma appunto se poi ci sarà Elisa potrà raccontare Sicuramente andremo in dettaglio, ma come i nostri ascoltatori devono sapere per andare in dettaglio su questo festival Sara Rubais A che punto di riferimento possiamo arrivare noi sui siti, sui social per scoprire il vostro programma? Sì, andare sul sito internet www.festivalimmagine.it e trovate il programma e poi sui social, su Facebook abbiamo la nostra pagina Facebook e anche il profilo Instagram dove adesso ogni giorno pubblichiamo informazioni sul programma, sui laboratori, sugli ospiti Vorrei arrivare però a definire una cosa Sara Rubais, perché voi vi definite piccolo festival della narrazione per figure Mi sembra importante questa sottolineatura, narrazione per figure, cioè? Ma sì, le figure come sinonimo di immagini, di illustrazioni sì, stiamo cercando di concentrarci proprio su quella parte lì cioè sappiamo che gli albi illustrati, l'abbiamo detto, magari lo ridiciamo perché mi rendo sempre più conto che noi lo diamo per scontato ma in realtà l'albo illustrato insomma non tutti proprio lo conoscono ecco come genere narrativo a sé è fatto di parole e immagini che tra di loro dialogano per creare il senso proprio della storia quindi se noi togliamo l'immagine o togliamo la parola viene meno questo ovviamente negli albi quelli che funzionano davvero viene meno il senso globale noi stiamo cercando di concentrarci più sulla parte figurativa delle immagini perché insomma è quella che fin dall'inizio abbiamo deciso di cioè abbiamo deciso di concentrarci su quell'aspetto lì perché anche le immagini parlano, raccontano e insomma ci piace ci piace quell'aspetto lì siamo sempre più bombardati da immagini ma la nostra capacità di leggere le immagini forse deve essere un pochino allenata e anche la partecipazione a un festival mi sembra importante che non è solamente un festival per bambini è un festival per tutti e quindi è anche un modo quando noi raccontiamo i festival di dire di andare a un festival di fare la cosiddetta gita fuori porta fare la passeggiata e credo che sia interessante anche per adulti e bambini fare la passeggiata a Vernante attraverso le varie illustrazioni del Pinocchio di Collode fatte da Mussino Sara Rubais l'attività che vi vede coinvolti in questo festival e poi la tua attività personale di promozione della natura credo che sia veramente fondante ogni giorno sì 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 io appunto per l'associazione NOAH curo molto la parte di promozione della lettura abbiamo questa collaborazione importante con la biblioteca 018 di Cuneo che è una biblioteca interamente dedicata alla fascia appunto dagli 0 ai 18 anni e organizziamo lì costantemente da adesso abbiamo perso un po' il conto più o meno però come quando iniziate immagine saranno più o meno 4 anni organizziamo laboratori di lettura per le varie fasce di età è una missione per noi ci crediamo molto e mi rendo conto che siamo ancora proprio in una fase cioè stiamo seminando perché appunto non dobbiamo dare per scontato che le persone cioè bisogna hai detto proprio un termine che a me non veniva e trovo che sia azzeccatissimo allenare dobbiamo proprio allenarci prendere il tempo il giusto tempo per fermarci ad osservare le immagini e gli albi illustrati ci insegnano che non vuol dire ecco che non vuol dire senza nulla togliere a Instagram o allenarsi guardando quell'immagine perché su Instagram spesse volte io mi rendo conto che tutto è bello tra virgolette dobbiamo allenarci a capire che cosa è bello vero e che cosa è bello falso e questo lo possiamo scoprire anche guardando delle illustrazioni poco fa noi abbiamo raccontato quelle di Nadia Guerrini per fare un esempio ecco sono dei momenti importanti perché allena allena lo sguardo lo spirito anche l'anima prima di salutarci Sara Rubeis qual è invece il libro che ti fa compagnia in questi giorni allora in questi giorni mi fa compagnia un libro di Bjorn Larsson perché ho da poco fatto un viaggio un piccolo viaggio in Svestia e sono un po' appassionata di queste zone del nord Europa che è nel nome del figlio nel nome del figlio il libro che noi abbiamo recensito proprio poche settimane fa grazie alla sua traduttrice un lavoro straordinario nel nome del figlio e come l'hai trovato? ma è stata una cosa un po' particolare perché stavo facendo una gita in Valle Varaita e ai piedi c'è proprio uno dei primi paesi c'è una una libreria all'interno di una struttura che è anche un ufficio turistico e in quale paese? Castel Delfino? no e scusatemi non mi ricordo più se Bostolato no Brossasco la libreria di Valle a Porta di Valle a Brossasco in Valle Varaita sì esatto trovato ebbene hai trovato il libro in questa libreria mi ha colpita mi ha chiamato questo libro qui quel giorno e in quei giorni stavamo meditando di fare questo viaggio in Svestia e quando ho guardato ho detto caspita no non posso non prenderlo e quindi ecco ed è una bella storia nella vita personale sì sì della vita personale dell'autore che mi sta veramente prendendo molto il libro che racconta dalla perdita del padre vivere senza padre convivere con i ricordi del passato che cosa vuol dire vivere di ricordi cosa vuol dire la parola radici Bjorn Larsson scrive veramente questo romanzo veramente molto intimo un omaggio straordinario al padre noi l'abbiamo raccontato insieme con la traduttrice Alessandra Scali e intanto grazie grazie Sara Rubeis per il tempo che ci hai dedicato e buon festival davvero grazie grazie a voi è sempre un piacere partecipare cioè essere presenti a queste chiacchierate con te e insieme a questi autori che hai nominato è un onore a presto grazie grazie mille a presto grazie a tutti grazie a tutti